E quindi? C'è questo viaggetto a Roma letteralmente al centro della sessione? Andiamo, weekendino a Roma. Sempre in ritardo, sempre. Esatto, non me ne è fregato assolutamente nulla di essere in sessione, ho preso il primo Italo che c'era a disposizione e sono arrivato nella capitale, dai! La situazione è Roma. Ma comunque non veniva a Roma da tipo, boh, quattro anni, vi giuro, e mi mancava troppo, non vedevo l'ora. E ora vedremo che si farà in questi giorni. Tutto fit ceccato per uscire in via del corso in questa bellissima giornata a Roma. Maglioncino, Tommy, panna, pantalone, panna e scarpino nuovo più balance. Panna, ovviamente, tutto fit ceccato. Sono di Roma come Fontanelle e San Pietrini, in zona con i miei fratelli, fan cool e i tuoi amici. Roma, su due miei vestiti sono di Parigi. Allora, a Piazza del Popolo vogliamo provare questa cosa. Uno si mette lì e uno si mette lì e in teoria ci sentiamo, in teoria, proviamolo. Noi già lo sappiamo che non funzionerà mai e poi mai, però ci proviamo lo stesso. In pratica siamo proprio qui nell'angolo e l'altro amico è là sotto. Gabri. Gabri. No, vabbè, siamo un po' scendo. Mito sfatato, non funziona. Non funziona niente, non si sente nulla. E quindi? Dai, Roma. Portellini, la Paolo di Barra. Ovviamente, impossibile non coppare. Beh, raga, questa qua è la città più bella del mondo. Io voglio venire a vivere qua. Basta, Milano. Non mi interessa più, non ci voglio vivere più. Vita, saluta il mio blog su YouTube. E vabbè, oh, classica seratina con gli amici a spaccarsi, ci può stare. Anche se io vi dico la verità, non mi diverto tantissimo ad essere in discoteca, però con gli amici alla fine si sta sempre bene. E poi si torna in ecultra alle 5 del mattino con meno 56 gradi e mi stavano congelando faccia e mani. Perfetto. Ok, obiettivo del momento, svegliarsi, alzarsi dal letto e andare a fare colazione fuori. Forza. Assaggiamo il maritozzo più buono di Roma. E' assai buono. Scala da 1 a 7. Scala da 1 a 7, 6. Mira, Bobo, mira, mira, Bobo. Le recensioni dei turisti. Bello, ma è un po' rotto. Bello, è un po' rotto, servirebbe manutenzione. Direzione, il campetto più trap d'Italia. Con sfondo Colosseo. Skate park, resti romani lì a caso. Ale, dici la situazione. Allora, praticamente qua c'è il Colosseo, no? Sono qui al Colosseo. Abbiamo appena giocato a calcetto e sì, sono pieno di sangue e niente. Mi sono vestito di bianco per andare a giocare a calcetto, perfetto. Roma è così, no? Cammini. Da una parte è uno dei monumenti storici più importanti del mondo, dall'altra uno dei monumenti storici più importanti d'Italia. E qui c'è la metro in costruzione, che bella. Direzione, direzione, direzione. Olimpico. Dagli Roma. Allora, la situazione è questa. Stiamo entrando all'Olimpico, io per la prima volta. Vado all'Olimpico e vediamo la reaction. E' una cosa impressionante. Io non ci posso guardare. Roma, Roma, Roma. Roma, l'ore di questa città, unico grande amore e tanta gente. Domenica italiana. Oh, ma cosa c'è qui? Si torna a casa. Roma, sono rimasti in un'altra. Raga, questo weekend a Roma è stato bellissimo, ve lo giuro. Roma, cioè la mia città del cuore, capito? Non solo dal punto di vista calcistico, ma proprio c'è nel mio cuore, ok? Se io un giorno cambierò città e me ne andrò da Milano, andrò a Roma. La mia più grande paura che mi cade il telefono con il sole. Cago indosso.